Ciao a tutti, allora video sugli smalti lo faccio separatamente perché non sono riuscita a inserirlo nel video make up di gennaio e anche perché in effetti non sono smalti che ho utilizzato solamente in gennaio ma sono proprio gli smalti che diciamo in questo periodo autunno e inverno mi sono piaciuti di più siccome ho visto il video di Selvaggia S&S Style & Makeup che seguo tantissimo e con il quale ho anche un'amicizia diciamo quindi insomma mi fa molto piacere raccomandarvela sia perché il canale è estremamente interessante e ben curato e poi perché lei è veramente una persona deliziosa anche come persona avendola conosciuta personalmente avendo anche passato del tempo con lei mi fa ancora più piacere raccomandare un canale amico al di là di questo avevo visto appunto il suo video sui top 15 smalti e i miei non sono 15 forse saranno anche di più ho semplicemente raccolto in questi giorni man mano che sistemavo così un po' gli smalti quelli che sono più utilizzati e che mi piacciono di più vedrete una grande quantità e predominanza di rossi, di borgogna, di bordeaux, di viola e di nude o comunque colori piuttosto eleganti, piuttosto neutral niente quindi ve li faccio vedere mi pare che non ci sia o quasi nessun colore sgargiante tipo blu verdi così non questi magari più verso la primavera estate allora innanzitutto vi volevo fare una carrellata di quelli che sono i prodotti che sto usando per la cura delle unghie perché vuoi giustamente che magari una buona dieta quindi un'alimentazione buona possa avere influito sulle mie unghie, non lo so nel senso l'alimentazione influisce, magari le cose che sto mangiando in questo periodo vanno particolarmente bene e quindi ho le unghie molto dure, forti, non si sfaldano sono proprio perfette, le unghie che uno desidera avere proprio idealmente non in tutti i periodi della mia vita le ho avute così e vi faccio vedere che prodotti sto utilizzando perché poi non si sa mai se c'è una altissima incidenza dei prodotti una alta incidenza dei prodotti è comunque un mix anche tra sicuramente lo stile di vita che ne so i detersivi che usiamo, tante cose probabilmente influiscono però tra vedere e non vedere vi faccio vedere che cosa io sto utilizzando allora sto utilizzando due linee di prodotti una è la Collistar allora sì, questi qua della Collistar che sono in pratica l'indurente unghie antirottura questo qua, che vedete che ormai è quasi giunto al termine ma riesco ancora, nonostante si sia un po' addensato ad utilizzarlo e si asciuga ancora benissimo in un secondo proprio e mi permette di iniziare subito la manicure quindi questo qua, indurente unghie antirottura lo sto appunto terminando e mi piace tanto perché ripeto ho delle belle unghie quindi vuoi che sia anche magari suo merito dopo che ho steso quello vado sempre a massaggiare sulle unghie e sulle cuticole questo Elisir trifasico unghie che contiene vitamina A ed è olio di ribes nero vedete, questo ne ho utilizzato nemmeno metà ma l'ho utilizzato quasi tutte le volte non dico tutte perché a volte vado un po' di fretta ma quasi tutte le volte che faccio le mani però si consuma di più la base che non questo Elisir trifasico però li avevo presi diciamo tutti insieme e poi meno, molto meno degli altri ma ogni tanto ne capisco meno il senso di questo prodotto anche se nell'insieme facendo tutti e tre o meglio quattro step perché se non quattro step devo dire che la differenza totale si vede questo contiene polvere di madre perla e olio di argan ed è appunto uno scrub levigante unghie cuticole quindi di regola questo è il primo step che faccio poi metto l'Indurente poi metto l'Elisir trifasico asciugo con una velina e procedo alla manicure poi come top coat sto utilizzando l'effetto gel and volume top coat sempre di Collister che è un vasetto grosso vedete questi sono da 6 e questo è da 10 mi piace moltissimo è quello che ho anche adesso mi dà una bella lucentezza che mi dura proprio nel tempo finché non rifaccio le mani devo dire che mi rimangono assolutamente lucide con questo prodotto quindi sì sono un po' più che a metà vedete ed è ancora buono cioè nel senso non è perfetto come i primi tempi ma assolutamente non mi fa fili non mi dà problemi di gestione di densità assolutamente altra linea che sto utilizzando è invece questa qua eccola qui avevo sì questa in effetti non ve la faccio vedere perché avevo iniziato ad utilizzarla ma poi non volendo utilizzare tre linee e aprirle tutte quante mi sono concentrata su queste due e sono allora della P2 allora questo il Fast Help Repair che dovrebbe servire appunto come pronto intervento per unghie naturali fragili deboli o rovinate dice lo smalto per unghie trasparente rinforza le unghie con una pellicola di protezione in acrilico questo si potrebbe utilizzare come top coat o ripeto se avete unghie sfaldate dovrebbe andare a creare appunto un cappotto un coat appunto sopra che le chiude bene ma non avendo problemi alle unghie questo per il momento come vedete non l'ho praticamente utilizzato della linea invece ho utilizzato questi tre questi tre sì anche se molto meno tranne uno perché voglio un po' finire quelli di Collistar però a volte li sto iniziando ad utilizzare non mi dispiacciono li avevo provati e poi però tendo ad utilizzare più quelli proprio per finirli e sono il gel calcium trattamento ristrutturante al calcio per unghie fragili e sensibili e il top coat ultra wear della stessa linea mi piacciono entrambi li ho utilizzati già un po' di volte anche se vedete sono abbastanza all'inizio mentre ho completamente finito perché avevo nel frattempo finito le mie goccine di essence quindi sono passata a questo in abbinata appunto ai prodotti della Collistar uso sempre questo a fine manicure che è il quick dry spray che vedete non ho del tutto finito ma più o meno me ne manca poco e è appunto fatto così ok con la pompettina spray e io praticamente tengo le unghie in questo modo e vado a dare una spruzzata e devo dire che l'asciugatura è molto rapida nel giro di un minuto ho le unghie perfettamente asciutte e non mi si non mi si segna certo dipende anche dallo smalto con gli smalti veramente ostici ma che hanno problemi di per sé ad asciugarsi non può fare miracoli però se uno smalto è un buono smalto aiuta moltissimo e con i prodotti unghie pre preparazione opposto smalto finito se non che potrei citarvi come molto buona questa pocket nail file sì che è appunto la limettina vedete contenuta dentro questa plastica che trovo estremamente utile per essere portata in borsa perché mi dà molto fastidio avere la lima ruvida mentre tenuta così la trovo ottima e poi è anche veramente un'ottima limetta di per sé ce l'avevo un sacco di tempo la uso da quando me l'avevano inviata che ve li avevo fatti vedere i prodotti quindi penso la primavera scorsa e non ha fatto una piega va benissimo quindi insomma poso qui il tutto questi erano i prodotti passiamo adesso agli smalti allora per quanto riguarda gli smalti devo dire che avevo sottovalutato tempo fa quando li avevo presi tutti gli smalti della come si chiama power pro della Kiko però devo dire una cosa che quando erano usciti le mie unghie non stavano bene come adesso ed effettivamente tendevano a scheggiarsi molto facilmente già al secondo giorno ma perché erano sfaldate allora non avevo voluto tra virgolette mettere una sentenza contro questi smalti che mi sembrava mi durassero pochissimo in realtà avevo capito che era un problema di unghie perché ragazzi è inutile giudicare male uno smalto se però abbiamo delle unghie non in forma normale che ci si scheggi lo smalto velocemente la superficie sul quale noi applichiamo lo smalto deve essere perfetta o quasi per poter dire che uno smalto è pessimo certo tra smalto e smalto se abbiamo le unghie rovinate ne applichiamo due uno dura di più ecco sì però effettivamente in quel periodo non mi durava granché nulla perché appunto avevo le unghies rovinate di per sé li ho rispolverati tipo un mese e mezzo due mesi fa sì verso prima di Natale e devo dire che sono veramente eccezionali a parte che i colori sono bellissimi non avevo nulla da dire già precedentemente per quanto riguarda la texture di questi smalti che è fantastica cioè né troppo liquida né troppo densa si stende bene non sbordano non colano sapete quando è troppo liquido e colano tutte verso le pellicine terribili si asciugano in un tempo assolutamente buono e mi durano diciamo quei 3-4 giorni anche 5 devo dire se non fosse che io tendo a non tenere uno smalto quasi mai più di 3 giorni però per provarli li ho tenuti anche di più e devo dire ottima resa gli ultimi che ho preso sono come vi avevo detto di già questi due il numero 46 che peraltro è quello che indosso e il numero 26 il numero 26 lo aveva consigliato nella top 15 appunto selvaggia e il numero 46 l'ho preso perché è uno tra i pochi colori che attualmente è in promozione in saldo appunto e costa 2,40 se non sbaglio tutti gli altri li ho presi a prezzo intero e quindi ne ho altri 4 perché avevo fatto la promo quella dei prendi 4 ne paghi 3 e i colori che avevo scelto sono questi due naturali che sono il 29 e lo 05 che sono bellissimi eccoli qua non vi sto a descrivere i colori perché ho notato che l'iPhone adesso ho il nuovo cellulare ho l'iPhone 6 Plus è molto fedele coi colori mi piace veramente tanto la resa la resa a colore nulla da dire quindi non non sono sfalsati così come li vedete li vedo anche io soprattutto mi stupisce per i viola che di solito sono piuttosto diversi e poi avevo preso questi altri due che sono il 20 e il 15 quindi questo è il 15 e questo è il 20 quindi questi sono gli altri Power Pro che ho preso ve li se non distruggo tutto ve li faccio vedere tutti insieme eccoli qua eccoli qua questo rumore che sentite è la sedia che che cugola allora ecco qua quasi sono i Power Pro mi piacciono moltissimo quindi super promossi mettiamo tutti gli smalti qua sperando che non cadano allora ho un OPI da farvi vedere che forse mi era stato regalato al Cosmoprof se non sbaglio mi piace tantissimo lo trovo un viola veramente con tanto grigio dentro spento molto elegante molto molto elegante ecco questo lo vedo un po' più viola in camera di quanto non sia è molto più spento meno meno bright come colore molto più grigio e molto più polveroso come colore e questo è Hello Hawaii Ya Hello Hawaii Ya Ya come Ya in tedesco con il punto di domanda bellissimo sulla stesura durata sapete che gli OPI sono ottimi smalti e devo dire che nonostante io non abbia una grossa esperienza in OPI perché non ne avrò tre o quattro ha assolutamente confermato la mia opinione su questi smalti che sono ottimi super promossi poi vi faccio vedere i due di no non Wicond di Wet n Wild che erano dalla collezione Melrose avevo preso prima il I Must Have Heat che è questo verde che è l'unico verde particolare il colore particolare che ho usato quest'inverno e mi è piaciuto non li promuovo tanto quanto i Power Pro o quanto gli OPI per quanto riguarda la texture leggermente meno performante ecco però ottimi smalti costano veramente poco sono della linea Mega Last e l'altro che ho preso è Stop and Mild Roses che è questo bordo metallizzato vedete eccolo si vede molto molto bene e mi sono piaciuti entrambi li ho trovati molto belli beh ecco quali vedete veramente bene carinissimi poi veramente costano un nulla poi ho utilizzato soprattutto nel periodo natalizio ma anche di recente questo meraviglioso colore di Sinful Colors che si chiama Sugar Sugar numero 839 non credo che lo leggerete comunque Sugar Sugar che è bellissimo guardate che rosso veramente molto molto brillante particolare ed è pieno di glitter come vedete però sempre tono su tono ed è molto fedele il colore in camera è bellissimo vi fa veramente una mano molto viva molto particolare ma anche molto elegante devo dire eccolo qua un bellissimo rosso mi piace anche come stesura ripeto non è una stesura secondo me meravigliosa come quella dei Kikona Power Pro che mi piacciono moltissimo è che hanno una stesura simile ai Fabi per intenderci anche i Fabi secondo me sono degli smanti ottimi o i Minai questa è buona è una buona stesura ma quelle lì sono eccezionali quindi Sinful Colors anche questi li trovate per altri anche nei Pittarello credo nei Coin nelle Upim un costo medio basso guardate che bello ecco qua si vede veramente bene quindi questo ve lo consiglio poi vi faccio vedere uno smalto di Formula X Formula X è un prodotto appunto che viene venduto da Sephora secondo me è un po' troppo caro perché questi smalti non mi ricordo male sono intorno ai 14 euro però performance elevate ottima vedete hanno il cappuccio che si sfila così ottimissima stesura buona durata colore bellissimo uno dei più bei rossi che io abbia e si chiama Pyrotechnic come i fuochi d'artificio è questo rosso con una bella punta di fucsia dentro molto se vogliamo è un rosso anche particolarmente estivo ma è uno dei rossi che mi piace di più e che oso tranquillamente anche nel periodo invernale quando voglio anzi vi dirò che con la mano pallida mi piace molto lo smalto rosso vivo rosso proprio così vivace bellissimo quindi approvatissimo se non fosse ripeto che il costo è un po' troppo elevato due rossi che mi piacciono moltissimo e che sono simili e che hanno un'ottima stesura un'ottima durata belli insomma ovviamente tutti gli smalti che vi faccio vedere non sono pessimi per quanto riguarda la stesura né per quanto riguarda la durata qualcuno meglio qualcuno peggio qualcuno più low cost ovviamente però sono smalti che io considero buoni tant'è vero che sono tra i più usati sono due smalti della P2 che mi erano stati inviati e che ho usato moltissimo quest'inverno che sono il 691 can't get an oag non lo so non mi ricordo mai come si pronuncia can't get an oag GH non mi ricordo mai come si pronunci 691 e il 110 dating time allora questo è più un bordeaux un rosso scusate che ha del viola dentro come vedete mentre questo è più un bordeaux quindi un rosso questo è qua è più un prugne va più verso il prugna però sono molto simili quindi 691 e 110 belli 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 anche un'ottima stesura l'ho detto questi due mi piacciono molto di stesura non cioè a dispetto del prezzo prestazioni molto elevate smalti top 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 di tutto durata i più durevoli che ho mai provato stesura ottima i colori mi piacciono molto sono due viola casualmente sono il where is my head questo scuro e vincerò questo un po' più bright eccoli qua sono di fabi adesso fabi il 2 marzo dovrebbe presentare la nuova linea di smalti e devo andare all'inaugurazione insomma all'evento belli 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 tutti e due quindi due viola che vi raccomando caldamente in questo momento si è visto veramente molto bene questo viola devo dire che anche questo rende in maniera piuttosto fedele poi della essence si della essence ci sono due smaltini anzi tre mettiamo dentro anche lui eccolo qua allora della essence linea color and go mi piacciono moltissimo questi due uno è questo che si chiama 131 ballerina's charm che è questo viola lilla molto delicato molto elegante il tappo riprende fedelmente devo dire il colore dello smalto buoni questi smalti mi piacciono molto brillanti molto durevoli almeno sulle mie ho sentito che molte dicono che non durino tanto che non si stendono bene ma io penso che vari da prodotto a prodotto nel senso da colore perché sappiamo tutti che in tutte le linee di smalti ci sono colori che rendono meglio ed è vero questo perché ne ho altri che non mi piacciono così questi due mi piacciono molto non vi ho detto come si chiama questo 113 do you speak love un rosso bello intenso giustamente scuro diciamo di quelli che possono piacere nei mesi autunnali tutte e due molto carini prezzo irrisorio come sapete poi l'altro che mi piace questo smalto è bellissimo per tutto e secondo me è senza sbaglia tantissimo se non lo rifà in versione permanente è uno smaltino della collezione natalizia Mary Berry si chiamava è lo 03 Pink and Perfect ed è questo come si può chiamare questo colore non lo so magenta beh comunque in camera viene assolutamente così come lo vedete e avevo fatto dei video portando questo smalto in tantissime mi avete chiesto che smalto porti che smalto porti che smalto porti perché è particolarmente lucido particolarmente gel particolarmente bello sulle unghie glossy ha una resa colore veramente eccezionale non delude ma anzi migliora quando lo stendete sulle unghie quindi a parte che era secondo me troppo carina anche la boccetta molto cos'è sono Dior inspired secondo me carinissima quindi avrei voluto prendere anche gli altri colori visto il risultato di questi mi sono dimenticata di farvi vedere uno di P2 che tra questi che vi ho fatto vedere va tipo nella top 5 di quelli che mi piacciono di più uno smalto elegantissimo quando volete fare una manicure tipo per la settimana in cui non sapete come vi truccherete o che nella settimana in cui volete usare dei look particolari sugli occhi e quindi non volete cozzare con lo smalto perché a volte tipo non lo so se uso uno smalto del genere mi sento un po' legata con il make up occhi ma anche se uso un viola così perché magari se faccio determinati toni sugli occhi non mi piace avere o di rossetto non mi piace avere le unghie scordinate ecco se usate questo colore potete fare quello che vi pare perché sulle unghie è quel colore elegante non impegnativo che dà alla mano un aspetto curatissimo la stesura e le performance dello smalto sono ottime ed è il numero 020 young miss bellissimo molto molto bello devo dire che P2 mi piace moltissimo come smalti poi vi faccio vedere un Rimmel Salon Pro tra i miei smalti preferiti assolutamente il numero il numero non so dove leggerlo davanti 403 Hypnotize bellissimo colore che rende molto bene in camera e anche come stesura come texture mi piace è uno smalto che io questi peraltro li avevo presi a un prezzo proprio politico alla UPM avevano fatto un cestone con l'offerta di questi ma un bel po' di tempo fa adesso si vede benissimo tipo un anno e mezzo due anni fa non è cambiato per niente è identica la texture non si è addensato un ottimo smalto uno di quelli che sto usando ultimamente e anche di questo mi avete chiesto Lumin ho delle foto o qualche video è questo smaltino di Pupa di cui però io non so ricavare il numero perché era in un kit dentro una specie di pochettina viola e dorata che aveva tre smaltini uno trasparente uno glitterato tipo top coat è questo ed è uno smalto veramente bellissimo di colore forse somiglia un po' a quello essence insomma non è che sia li vedesse un maschietto direbbe che sono identici noi donne possiamo trovare trova la differenza insomma no bellissimo colore però cosa sarà P185 l'unica cosa che c'è scritto è un numerino qua piccolissimo qua sotto la fiammella vedete P185 io di più non vi so dire è un lasting color glossy nail polish di più non saprei bello 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 e le performance degli smalti Pupa per me sono molto buone tra i migliori smalti che io abbia provato insieme ai Fabi questo devo dire che ho PA insomma alte prestazioni di questi smaltini piccini poi smalti poco diffusi devo dire che non se ne sente parlare tanto e anche io è da un po' che non faccio un salto nei loro negozi devo tornarci perché secondo me hanno veramente un'altissima qualità ad un prezzo medio perché non è bassissimo ma è medio non è ovviamente un low cost come Essence come P2 così è molto buoni molto 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 buoni carinissime le boccette hanno dei colori veramente molto particolari sto parlando di Minai i miei tre preferiti tra quelli che ho sono questo viola veramente molto intenso forse il coro è più intenso che ho usato quest'inverno e in camera rende benissimo questo iPhone 6 devo dire super promosso perché mi fa rendere viola come non era mai successo si chiama Independent Independent non dovrebbe essere scritto Independent non so qui è scritto Independent comunque ottimo smalto è colore bellissimo questo che è una colore platino argento che si chiama Ice Grey guardate che bello è veramente molto molto bello è un un colore meraviglioso e rende veramente così tanto anche sulle unghie cioè non è così bello in boccetta e poi lo applicate sembra un grigino no sembra veramente il platino che vedete in boccetta quindi molto bello e ve l'ho detto si chiama Ice Grey e poi questo che idem è un colore guardate quanto è bello molto particolare certo se siete in modalità smalti cream senza metallizzature sberlucichi questi due ecco però io ho avuto una fase molto più cream quest'inverno è poco sberlucicosa ma quando ne avevo voglia assolutamente Hurricane è uno di quelli che ho utilizzato guardate che bello forse dice an oath can get an oath non lo so mi viene sempre molto male pronunciare queste parole sono le più lontane dalle nostre pronunce italiane faccio fatica parlavo di uno smalto di prima per chi non mi avesse vabbè allora due no che due uno smalto perché gli altri sono di Kiko sì sono di Kiko eccoli qua e ho finito ce l'ho fatta allora uno smalto bellissimo che è proprio bellissimo di cui si era parlato particolarmente l'anno scorso forse Wicon ve lo consiglio super caldamente uno dei miei super preferiti è il numero 100 non riesco a capire se è il 108 o 106 mi sembrerebbe 108 guardate oddio perfetto colore in questo momento lo state vedendo veramente per com'è quindi è questo borgogna con una bella componente di fucsia dentro quindi un rosso con una bella punta di fucsia all'interno bellissimo molto bello bello sull'unghia bello glossy lucido durevole si sente stra bene colore vabbè bellissimo poi due smalti di Kiko della linea normale quindi nail lacquer di Kiko che sono il 363 che somiglia un po' a questo no vedete questo ha più fucsia però ecco la gamma un po' è quella bello 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 anche qua resa colore in camera è perfetta è questo colore che vedete e a me piacciono questi smalti ritengo che sia uno di quei casi di smalti dove ci può essere parecchia differenza tra un colore e l'altro questo e questo mi si stendono a meraviglia ne ho altri che sono un po' più macchinosi e questo è il 320 che è un colore è quel top proprio il color top color fango che andava anni fa che aveva spopolato e che io ho da allora che è rimasto perfetto e che è uno di quei toni insieme a quello che vi ho fatto vedere prima della P2 che metto quando voglio quelle unghie neutre non invadenti con la mano super curata elegante che si sposano con molteplici look molto 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 bello e basta ragazze io con la mia carrellata di smalti più utilizzati ho finito spero che possa essere di interesse ho cercato di mettere smalti abbastanza reperibili tranne appunto quello della collezione limitata essence che però magari ci ho trovato una collezione da poco in un punto vendita o c'era lo stand essence della collezione nuova primaverile secondo me ogni tanto le tirano fuori le mettono lì in vendita quindi niente di strano che ad agosto troviate lo stand Mary Berry che da qualche parte ancora non è arrivata tutto dire e basta vi mando un bacio vi ringrazio e basta niente se pubblico questo video prima del 17 di febbraio che è il giorno in cui finisce il contest fotografico a cui ho partecipato della laboratoire svr vi chiedo se non lo avete ancora fatto e se vi fa piacere vi lascio il link in info box di mettere il like alla foto con il quale sto partecipando niente una stupidaggine ma se lo fate mi fa piacere se non lo fate va bene lo stesso ci mancherebbe non cioè sapete quelle che vi inviano tipo le richieste via messaggio privato metteresti il like alla mia foto no non si non va bene infatti non l'ho detto neanche all'inizio video così proprio le fedelissime quelle che hanno voglia di sorbirsi i 30 minuti di 6 d'ori niente glielo dico alla fine e se lo fate mi fa piacere e vi ringrazio comunque un bacio al prossimo video ciao ciao